Come si è ripreso adesso dalla casa? Un grande sorriso, per tutti i kid, ragazzi, per tutti i kid, per tutti i kid, per tutti i kid, per tutti i kid. Per tutti i kid, 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 per tutti i kid. Sì, chiaramente è una grande serata, sia per me che per la Roma, insomma, vincere in questo modo davanti al nostro pubblico è una cosa davvero importante per noi. Certo, due golle all'Olimpico, per te immagino una grande gioia. Abbiamo visto questa sera il miglior Gervinio. Ma tanto andavamo anche i kid vitti, l'Olimpico, l'Olimpico, la presto di giro a prima parte, la fondazione della prima parte, la prima parte della prima parte, la prima parte della prima parte. Sì, chiaramente è bellissimo per me segnare qui all'Olimpico, ho iniziato davvero bene, però in realtà ho ancora un contratto che fino alla fine mi verrà legato alla Roma e voglio continuare in questo modo, migliorando. Tu eri a Ville con Garzia, vedi le stesse sensazioni di squadra in questa Roma che sta facendo così bene? Come ti ho detto, l'unione di Talaspre, il metodo è un po' di gioia, 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 un giocatore che ha la confusione del cuore, è un po' di gioia, è un po' di gioia. Sì, credo che lui abbia installato lo stesso spirito di squadra che aveva prima, si sente la fiducia da parte dell'allenatore e questo aiuta molto i giocatori a esprimersi sul campo. Grazie.